bella 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 amici a grandissimi marco drowns games channel trophy hunter gran turismo 7 il trofeo ricordo dal nurburgring eccoci qua allora andiamo immediatamente immediatamente a comprare la macanas ecco qui andiamo su europa bmw bmw showroom e andiamo nel mezzo e comprate la mitica m6 gt3 endurance modello 2016 è solo questa ok raga e poi andiamo scapes in germany e al nurburgring bella mi piace questo mi piace mi piace mi piace aggiungi la macchina aggiungi la macchina la giriamo bella lì inquadratura ed ecco voi 321 il vostro ricordo dal nurburgring e mi mi raccomando ragazzi seguite marco drowns per i trofei per gli video come fare soldi sul gran turismo per il world truth per tanti video gameplay di tutti i giochi nuovi dei one edition playstation 5 xbox serie 6 mi raccomando mi raccomando mi raccomando seguite il mio canale twitch per le live tutti i giorni sabato e domenica complese e facebook instagram tik tok e twitter per sapere quando vado in live con che cosa con che gioco è la programmazione e mi raccomando datemi una mano datemi una mano iscrivetevi fate abbonamenti aiutatemi e ditelo ai vostri amici e parenti che le vostre live sono molto molto simpatiche spero che i miei video di trofei hunter di trofei la playstation vi siano utili e ci vediamo alla prossima ciao amici miei da marco drams games channel ciao ciao